Omega Constellation, l'intramontabile eleganza L'orologio da polso Constellation è una rappresentazione di eleganza senza tempo e di prestigio. L'orologio da polso Constellation ha le sue radici in un'epoca di raffinatezza e lusso senza compromessi. L'obiettivo principale di questo modello era quello di rappresentare la costellazione con caratteristiche di alta qualità. L'ispirazione per il design è spesso legata all'eleganza e all'armonia delle stelle che compongono le costellazioni nel cielo notturno. L'orologio da polso Constellation si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per il suo design raffinato. I dettagli intricati del quadrante, gli indici delicati e le lancette eleganti sono tutti elementi che catturano l'essenza dell'eleganza senza tempo. La cassa e il bracciale sono lavorati con cura per garantire una vestibilità comoda e una durata eccezionale. Molte celebrità e personaggi famosi spesso scelgono l'orologio Constellation per il suo prestigio e la sua eleganza senza tempo. Indossare un Constellation è un'affermazione di stile e successo, oltre a essere un segno distintivo di raffinatezza. L'orologio da polso Constellation non è solo un simbolo di stile, ma anche di precisione inarrivabile. In alcuni casi, questo modello è stato scelto per stabilire record di precisione, dimostrando la sua affidabilità e la sua eccellenza nel campo dell'orologeria. Il Constellation è un esempio di come il design e la tecnologia possono convergere per creare un orologio che sia esteticamente affascinante che incredibilmente preciso. In conclusione, l'orologio da polso Constellation incarna l'eredità di eleganza, raffinatezza e prestigio. La sua storia affascinante, il design ricercato e l'associazione con personaggi famosi lo rendono un'icona senza tempo. Indossare un Constellation significa abbracciare l'eleganza intramontabile e l'ambizione di raggiungere l'eccellenza in ogni aspetto della vita. Ogni volta che si guarda il proprio polso e si ammira l'orologio Constellation, si è immersi nell'aura di stile e prestigio che ha conquistato le menti e i cuori di generazioni di amanti dell'orologeria di alta classe.